Le radici caucasiche, la formazione di impronta francese, l'amore per l'arte rinascimentale e la naturale propensione verso le nuove tecnologie. C'è un vero e proprio melting pot culturale nell'opera di Armand Adevosian, giovane artista armeno originario di Chiumri, che dal 2010 vive e lavora a Nancy in Francia. Classe 1983 è uno dei cinque protagonisti di Caravan Serraglio, il nuovo progetto di Arezzo Innovazione, dedicato alla sperimentazione di nuovi percorsi artistici e modalità realizzative nel campo dei gioielli e degli accessori moda. Quando sono venuto a conoscenza di questo progetto, della possibilità di usare le nuove tecnologie per trasformare i miei dipinti in gioielli, ho pensato che potesse essere una sfida interessante per me. È anche una preziosa occasione per conoscere in prima persona la culla del rinascimento tra Toscana e Lumbria. Nella mia formazione, infatti, sono stato profondamente ispirato da quel periodo e da artisti come Giotto e Masaccio. Specializzatosi in arti visuali all'Accademia di Chiumri in Armenia, Armand si muove tra pittura, video e fotografia. Nel 2006 è stato tra i fondatori del gruppo culturale Quinto Piano, una sorta di piattaforma che permette ai giovani artisti armeni di esprimere se stessi oltre i confini accademici. Nei miei dipinti si ritrova il corpo umano, che rimanda alla tecnica degli affreschi, ma allo stesso tempo è vicino al pensiero artistico contemporaneo. Ad esempio, ho reinterpretato il bacio di Giuda di Giotto, la venere del Botticelli, i soggetti della pietà e della crocifissione. E grazie alle nuove tecnologie, tutte le tracce sono state riprodotte qui, su queste tessere, trasformando così dipinti in oggetti decorativi e gioielli che possono essere usati nella vita quotidiana. Negli ultimi anni, l'importante sfida creativa di Tadevosian è stata quella di interpretare in maniera alternativa le trasformazioni geopolitiche della sua area di origine, attraverso numerosi progetti ponte tra gli artisti del sud del Caucaso e la Francia. Le sue opere sono state allestite in tutto il mondo, tra cui Francia, Germania, Armenia e Turchia. Dal 28 settembre al 2 ottobre sono tra le protagoniste di Caravan Serraglio, presso PoliLab, il laboratorio di Arezzo Innovazione.